Il dispotismo patriarcale maschilista fascista provocò un'eccessiva diversità di genere. Nonostante le discriminazioni in Basilicata, le donne non esitarono di rimanere sull'uscio di casa con addosso gli scialli neri, ma diventarono promotrici di proteste anche violente. Ecco come Michele Strazza, esperto di storia contemporanea, racconta le vicende affrontate a quell'epoca dal coraggioso Mondo in Rosa, nella sua ultima pubblicazione, patrocinata dal Consiglio regionale, dal titolo Donne in piazza, le donne lucane nel ribellismo sociale durante il fascismo. Il fascismo è espressione di una politica maschilista patriarcale, quindi chiaramente il ruolo della donna fu un ruolo subordinato all'interno del ventennio fascista. Anche da un punto di vista lavorativo, le riforme liberali in campo lavorativo vennero eliminate, vennero ristrette dal fascismo. Quindi durante il ventennio la donna ebbe veramente un ruolo subordinato, anche se Mussolini cercò di farla entrare all'interno del sistema ordinamentale fascista, all'interno delle stesse organizzazioni fasciste, ma il ruolo fu sempre e comunque subordinato a quello maschile. Il seminario ci pone dei problemi di riflessione, nel senso che analizzando questi primi segnali di un protagonismo femminile durante il ventennio fascista, negli eventi di ribellismo sociale che si ebbero durante il ventennio, c'è da porsi il problema se quel protagonismo oggi è ancora presente all'interno della società di oggi e se la donna ha avuto con la fine del fascismo, con il dopoguerra e con la nuova democrazia un ruolo diverso all'interno della società lucana.